allora prima di andare a cercare bolle che so già dove si trova vediamo cosa c'è da prendere in questo livello che c'è un mucchio di roba da prendere quattro falsieri 19 azzurre 3 rossi 3 verdi 1 dritte io direi prendiamo le cose di silenzio almeno le cose che possiamo prendere metterci la musica sottofondo e metterci la musica sottofondo e metterci conoscete tutti a presto 6 Grazie a tutti. 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 Non so. Spire a tutti. No. Grazie a tutti. Un boss. Oh, ce l'ho fatta.